Oggi per la prima volta faremo una modalità che vedevo fin da quando ero piccolo ma che non ho mai portato sul canale Le cubo lucky block Mi raccomando lasciate un like se volete che io le faccia di nuovo In questo video è successo di tutto Abbiamo anche trovato un hacker che ci ha creato contro Ma non ti spoilerò nient'altro andiamo subito al video Ok ci siamo Tra 5 secondi inizia Io non ho mai fatto una cosa del genere Quando ero piccolo Perché letteralmente i video che girano su questa roba Ok inizia bene Sono di 7-8 anni fa Io non ho mai però giocato una cosa del genere E c'ho un cuore Allora com'è che funziona? In teoria dovrebbe starci esattamente Abbiamo al centro un Nexus Che dobbiamo proteggere E nel frattempo dobbiamo invece attaccarci E distruggere il Nexus avversario Io sono il blu Tu sei il verde Ci sarà un altro tizio che è il giallo Vabbè perché sono entrato in un server Tra l'altro che c'ha questa modalità da 86.000 anni Ed è anche l'unico che ce l'ha ancora Tu ti dico buona fortuna Io sono abbastanza sfigato Quindi potresti andare molto bene Io per tattica Guarda guarda allora mi sono peccata un cuore A inizio round Eh io pure infatti ora sto recuperando la vita piano piano Però io mi sto facendo anche l'armatura Lucky Ecco perfetto Ok ho trovato una roba un po' meno lucky Godo vedo che sei morta Tu che colori sei tu sei il verde Chissà se c'è la possibilità di finire Arco del teletrasporto Diciamo che fanno dei riferimenti un po' particolari Alle esplosioni Io questi riferimenti non li ho visti Però c'è un creeper Ah ecco sono ecco L'ho detto Hai visto? Hai fatto il 025 più grande della storia Eppure io che ti prendo in giro Ok no però C'ho questa laggy armor Che è fortissima Mamma mia che cosa brutta che ho sentito Ce n'ho pure in più Chissà se muoio Oh mamma mia Oh pozzine di invisibilità Cioè nel senso Magari era meglio non dirlo Eh Effettivamente No Mi sono più Delle envi in testa Oh io non faccio in tempo a capire Quello che sta succedendo E farmi una tattica Che succedono cose dentro sto gioco Mamma mia Raccontami raccontami Fammi conoscere No raccontami tu Tra l'altro tu sei completamente Eh ma che brutto Ma che brutto Ogni tanto sento qualcosa che urla urla di disperazione Ecco che cosa urla Capisci che questa modalità è talmente vecchia Ho trovato una spada che si chiama Spada lezzina E' proprio Ma che cosa sto leggendo Ma quanti cani Ma quanti cani Sto pensando se venire prima da te O fare fuori prima la concorrenza Che ho di mezzo rispetto Ah bisogna picchiarsi fra di noi Eh sì Che dobbiamo fare Ma no ma come vengono a picchiarti Allora scusami Ah perché tu mi stavi facendo un piacere Io certo Ma certo E adesso C'avevo un utilizzo Ma cosa è successo Madonna Aia ma No eh sì ma è la quarta Mandria di lupi che trovo Si dice mandria Pranko Mandria di lupi Boh nel senso Parliamo Secondo te C'ho l'arco del teletrasporto Ma non c'ho le frecce Ma c'è un hater Ma letteralmente Perché c'è uno che si chiama Ah i cani Si chiamano hater E ci sono bloccati In un punto becchi Ma Allora dovrei incominciare A fare i punti Ah eccolo il nexus Ah tu hai scoperto ora il nexus Brava No aspetta Ma Mi è arrivato uno da dietro No Tommy Vuoi che ti aiuto In questo Ah ok non si perde Aspetta ma c'è uno No mi sta rompendo Ti aiuto Tommy Ho sentito spacca Arrivo Arrivo ad aiutarti Eh no Lo devo picchiare col piccone Ma come è arrivato Ha usato tipo L'arco del teletrasporto Perché Se no non si spiega Ok Sono morto Tommy Tommy sono morto Cosa Che cosa Tu che c'entri Non ci sei Non stai facendo niente Ma come sei arrivato pure tu Ma tutti quanti Con la magia dell'amicizia Tommy Ma come con la magia Che significa Ma non ho capito Facciamo una cosa Facciamo una cosa Sì dimmi Sì dimmi Tu dimmi Tu dimmi Tu dimmi Voglio farti vedere Voglio farti vedere Potere l'amicizia O non l'hai mai fatto vedere Sono una persona orribile Scusami Quello che imponevi ai miei amici Io non imponevo proprio niente Guarda chi impone sei tu Eeeh Lo vedo Lo vedo Lo vedo Sta scavando Pago meno 0,0 Vieni Vieni se c'è il coraggio Ma io ho preso del danno Il mio nexus Oh Ho schifato una fireball Per andare a vedere il nexus Oh caspita Ah perché Ah Neh ma si va Eeeh vabbè Mi sono buttata nel buco Che ho creato io Con le mie mani Eeeh Ma c'è Ma c'è dei maiali Che si chiamano red bull Che gli volano intorno No Oddio Una fireball è andata Contra un'altra fireball Non c'è Non mi ha rotto il ponte Devo dirlo al pubblico Che mi è obbligato A fare questo video Ah Aiuto Mi cago in mano davvero Tutto Cosa sto sentendo E sai che ti dico Mentre che sta lui da te Io vado da lui No vado ad aiutarmi Ma che dico Non ho modo Aspetta che il bro Non mi ha visto Aspetta che il bro Non mi ha visto No non è vero Il bro mi ha visto Il bro mi ha visto Il bro Il bro Il bro bro E questa è l'amicizia Che volevo condividere Che se non hai accettato Vabbè Dai Impegnati Ok Voglio fargli almeno Un po' di danno Non è vero Oh non prende Nockback Ma non prende Nockback Ma scusami Vediamo se funziona La pozzone di invisibilità Funziona Sì però C'ho l'armatura addosso Ok me la posso levare Ma se ora corro Un attimo da lui Io ora provo Un attimo a buttarlo giù E ora Vai 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 Andiamoci insieme Andiamo a fare le persone Lo prendo alla sprovvista Lo prendo in segreto Vai 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 Arrivo anch'io Arrivo anch'io Sto spettando Ma non piglia nockback E non lo smuovi Prova a picchiarlo A parte che c'ha Artiglio del drago Questo Voglio dire Vai ci provo ci provo Sono pagato nella terra Ok Uh uh In segreto in segreto Lo vedo lo vedo lo vedo Lui non vede me invece Guardami 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 come sono Sneaky sneaky Eh Cosa sto Mi nascondo Ok guarda Non mi vede Mi ha visto Mi ha visto Melma Melma Guarda Guarda Ok È vero però No vedi non piglia nockback Propongo un'alleanza Contro questo Che mi sa che sta cittando Ah va bene Va bene Va bene Va bene Ti Ti Vai 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 Ancora Non ce l'hai un'altra Non ce l'hai un'altra Oh mi ha Ma mi ha tirato una tm Arrivo da dietro Arrivo da dietro Ok tu vai Tu Do stai Ma dietro dove Dietro di lui Sei tu questo Ah ecco Di ma come ci arrivi Io mi parlo Vai è lì Non mi sta cagando Valla a picchiare Valla a picchiare Picchialo Chi l'hai Ti ha visto Ti ha visto Arrivo io Intervengo io Sto killando te Scusami Tranquillo No 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 Questo sta cittando Questo sta cittando un bot Questo sta cittando un bot Dai voglio vedere se ora non lo killo Se ora non lo killo Neanche con quello che ho trovato ora È impossibile Dove vieni Vai vieni No 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 Mi sta schippando Mi sta schippando Mi vuole killare Mi vuole rompere il gen Mi vuole rompere il gen Nexus Arrivo Arrivo E l'ho one shotato No mi ha rotto il blocco centrale Allora una cosa che ho visto è che Mi ha rotto il blocco che vale di più Infatti ho perso un botto Oh no Ora per bilanciare le cose Devo rompere pure te No Non funziona così Devi trovarla però Un'idea Ok Dai No 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 Noo stavo per mangiare la meloppi Non ci sono riuscito Devo dire che mi viene comunque la voglia di giocare dopo 87 mila anni Una roba del genere E cose che trovo Trovo un cittadino Sono fortissimo No, niente Non mi sono risolvato Guarda, guarda Sneaky, sneaky, mamma mia Mi ha visto Posso dirlo che ogni volta che Il team giallo è stato eliminato Oh, aspetta Ma stava pure flammando A meno che non l'abbiano bannato E io nel dubbio godo Un problema in meno Non vedo niente Sono svantaggiato dal fatto che io C'ho meno Nexus Me lo puoi rompere più velocemente Mi stai dando fuoco, a me questa cosa non va bene Io mi vado a mettere una Nexus Che leva il fuoco No, io non lo direi Oh, me lo sta rompendo No, no, no Mi sono buggato Non ci vedo Mi fermo un aspetto Mi fermo un attimo Ah, ok Guarda, hai fatto molto bene a fermarti Perché io sto venendo per fare un trattato di pace Voglio chiederti, ad esempio Certo Tu di solito Quando giochi Certo Ok, hai videogiochi Hai presente? Hai presente? Hai videogiochi? Vieni distrutta! Ok Che sai che sono bravissima Sono la miglior girl player della storia Oh, che palle Tu dimmi dove sei ne parlando Ma come vuoi l'art challenge? Non mi si levano i cuori Sono bloccato un cuore Ma come? Oh, che paura Aspetta che Eh, ma io non riesco a uscire Madonna Sto litigando con una fiamma Con una fiamma A me Mi si spegne il cervello Caddo solo io Vabbè Io sono la minecraft role player Cosa mi pensi Va, che schifo Cazzo dai questo, Bob Come che Oh, che mi scusa Ti voglio fare un regalo Ok, so dove sei No, non ero lì Sì, invece Eh, io sono dietro Ma tu non hai bardato Ma tu non hai bardato Va bene Va bene Non ho una spada Non ho una spada Come non è una spada Come non è una spada Allora, diciamo che io intanto ti porto anche te 83% Aspetta Ok, faccio Io mi sono fermato perché tu prima hai avuto pietà di me Io sono una persona riconoscente Però se cadi di nuovo nel busto io rido Io go Sì, sì Allora, che voglio Io non ho fatto Io non ho fatto Tu non ti merito di vincere questa partita Lo sai Sai che cosa? Se la meritava di più il cheiter Che è probabilmente stato bannato Sai che cosa ti dico? No, 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 no Sai che cosa ti dico? Sai che cosa ti dico? No, no, no No, 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 no No, no, no No, sono caduta Aspetta No, la mia freccia non a terra No, perché la mia freccia non va? Non ci credo Non ci credo Ti sei salvata Ti sei salvata Tu sei morta? No Sì Allora, sei risettato tutto Perché sono caduta anch'io Sì, ma Babaluca è riduttivo No, Domi No Domi No, Domi No, Domi No, Domi No, aspetta No Dove sto? No, ma perché tu mi pieghi da lì? Come fai? Aspetta No Sono tanti lasciar o vincere Domi Ti do Dime Dime Due secondi Per fare cosa? Per costituirti Prima che io vinca Se no, che fai? Per piangere Ma nel senso Mi stai dando un motivo in più Allora Ma come fai a picciarmi da lì? Ma lo vedi che c'è un bug? No, io non c'ho parole Io non c'ho parole Non vedi Non vedi il bug? Te lo creo io No Sì No Sì No No Sono tentato da lasciarti vincere Sono per pietà Te lo giuro Non è vero Sto rompendo È rimasto un blocco No È questo blocco di vetroverde a tenerti in via Lo sai? Aspetta Mangio me là Io sono forte Mangio me Prova a romperlo Mi fai vedere cosa succede se lo provo a romperlo? No, io non faccio niente No, non puoi Dai No Ti Ma ma perché non riesco a prenderti io? Ti Ma dai Mi stai pollizzato Ti No Ecco No Muori Non ho mai visto una persona così scarsa Ma torna indietro Ma torna indietro Ma che fai? Ripeto Sono una Minecraft roleplay Saluta dai Saluta No Di addio Di addio Ragazzi Se il video mi piace Lasciate un commento Mi piace Le mie ultime parole sono E noi ci vediamo al prossimo video Ciao